L'altro giorno mi è successa una roba incredibile Stavo andando sempre a farmi il mio giro quotidiano con la Chietti Stavamo facendo una passeggiata E giravamo per i vari negozi della zona Praticamente no, perché stavo facendomi un giro primaverile Anche perché il giorno dopo dovevo vedere Sì pronto? No grazie non mi interessa No grazie guardi non mi interessa No non mi interessa grazie Non mi interessa Non mi interessa Arrivederci, buona giornata Buona giornata Anche perché dopo dovevo vedermi il giorno dopo con la vanna Per fare lo sioping Allora stavo guardando un po' di negozi E a un certo punto vedo il ferramenta Che c'ha una coda di gente fuori Incredibile Cioè c'era questo ferramenta come una cosa di gente incredibile No non capisco E dico ma perché Deve esserci il ferramenta Che c'ha questo Sì pronto? Ho detto che non mi interessa Va bene? Non mi dovete più chiamare Non mi dovete più rompere i maroni Non mi interessa E allora c'era questa coda di gente incredibile Davanti al ferramenta E non riuscivo a spiegarmi il perché Fino a quando poi non sono arrivato Lì vicino Allora poi ho capito Praticamente Perché L'avete finita di rompere? Ho detto che non mi interessa Non mi interessa Ciao mamma Sì va bene Ti aspetto allora Sì dovrei essere qua Tra un poco insomma Va bene Allora ci vediamo dopo Va bene Ciao Ciao E c'era Praticamente c'era un cartello Con scritto Qui chiavi in 5 minuti Qui chiavi in 5 minuti